Preparazione al colloquio psico-attivinale. Oggi sono con Antonio, buongiorno Antonio, grazie per essere qui. Buongiorno. Questa è la testimonianza di un mio allievo, Antonio, risultato idoneo ad un concorso, potremmo dire, in Forze Armate, Forze dell'Ordine, Antonio, grazie al corso di preparazione psico-attivinale effettuato qualche mese fa, perché interessato può cliccare sul link di sotto e richiedere appunto ulteriori informazioni. Allora Antonio, cosa fai tu attualmente? Insomma, come ti sei trovato col corso? Allora, io col corso, innanzitutto sono venuto a conoscenza di questo corso, mediante i social, poi ne ho parlato con qualche collega che comunque aveva già effettuato il corso con il dottor Torino e me l'ha consigliato spassionatamente, però io ho sempre tenuto, diciamo, ero un pochino diffidente all'inizio, devo essere sincero, però mi sono fidato anche di questo mio collega. Anche ho contattato il dottor Torino che si è reso disponibile già dal primo messaggio e così, insomma, poi abbiamo iniziato il corso. Antonio, tu quando mi hai contattato, quindi mi hai conosciuto online attraverso questi, diciamo, colleghi, potremmo dire. E sei o eri un militare? Fammi capire. Sì, allora, io ero nell'esercito italiano, mi sono congiudato da poco in attesa di intraprendere questo nuovo percorso. Ok, ok, quindi noi abbiamo fatto una preparazione online, in sostanza. Come ti è venuto, diciamo, questo corso online? Perché magari c'è giustamente il pregiudizio, lo stereotipo, no, i corsi online? No, 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 anzi, mi è venuto molto semplice, anche perché comunque, grazie anche alla disponibilità del dottor Torino, riuscivamo a incastrarci, a incastrare gli appuntamenti, diciamo, vedendoci incontro con i vari impegni. E poi, comunque, no, è venuto semplicissimo. Ok, quindi tu hai avuto, Antonio, l'accesso ad un gruppo Facebook riservato, all'interno della quale intanto hai fatto delle coaching in gruppo, hai seguito delle coaching in gruppo per 3-4 settimane. Come sono andate queste coaching, Antonio? No, abbastanza bene, anche perché il corso, innanzitutto, è diviso in vari step. Una volta che si ha l'accesso al videocorso, uno lo può consultare ogni qual volta lo ritenga necessario, e poi, comunque, ci sono, appunto, queste coaching di gruppo che aiutano anche a confrontarsi, a capire dove si sta sbagliando e dove, invece, si sta proseguendo nella giusta, diciamo, nella giusta strada. Perfetto. Antonio, tu ad un ragazzo o ragazza che si accinge a prepararsi a questo tipo di selezioni, in questi, diciamo, concorsi, no, o al di là dei concorsi nelle forze armate, anche a una semplice selezione in banca o comunque in agenzie private, no? Come consiglieresti di prepararsi? Alla classica maniera, diciamo, leggendo anche qualche libro, eccetera, o con un corso interattivo? E perché, eventualmente? Diciamo che, appunto, mediante la seconda, sicuramente si hanno più risultati, perché, appunto, essendo una cosa più diretta, si impara velocemente. E poi, comunque, questo è un corso che, diciamo, lo si può fare sia nel caso di concorsi delle forze armate, ma anche con concorsi, colloqui di lavoro esterno. Perché, comunque, è un corso che aiuta a conoscere se stessi e quindi avere una preparazione davanti alla... perché sia un periodo serettore, uno psicologo, quello che è, e aiuta a essere più sicuri di se stessi, a non cadere in quelle che possono essere domande semplici, però che lì davanti risultano spiazzanti senza una preparazione. Certo, quindi potremmo dire, come abbiamo fatto, dal fronte alla prima settimana del corso di gruppo, diciamo, se ben ricordi, abbiamo fatto un corso di introspezione personale rispetto al mindset. Cosa ne pensi del lavoro psicologico sul proprio mindset, Antonio? Al di là del concorso, in generale, parli. No, è molto importante perché, appunto, come ho detto prima, aiuta a conoscere se stessi, che è molto, molto importante, ma non solo, appunto, a livello lavorativo, ma anche nella vita di tutti i giorni. E essere più sicuri se stesso davanti a qualsiasi persona, che sia in ambito lavorativo, in ambito personale. Certo. E tu, Antonio, quindi, giusto per dare delle chicche, chi ci sta seguendo oggi, cosa potremmo dire, no? Quindi tu hai fatto una prima fase pre-selettiva dove hai svolto dei quiz, l'hai superata, e poi sei stato convocato per delle visite mediche e psicoattivinali. Come sono andate? Ci puoi raccontare, diciamo, quasi tre giorni, come, insomma, funzionano? Sì, innanzitutto quello che consiglio è quello che, una volta superati i quiz, di eventualmente pensare a prepararsi anche dal punto di vista della preparazione psicoattitudinale, che molte volte da noi ragazzi viene sottovalutata perché ci sembrano domande semplici, magari ci si nasconde dietro le raccomandazioni o quello che è, però, ho detto molto spassionatamente, se uno va davanti al periodo selettore in maniera preparata, non può dire che, non può rendere in idonea una persona valida, ecco. E questo è un corso che comunque prepara sotto tutti i punti di vista. Certo, certo. Quindi consiglio spassionatamente di intraprendere questa strada. Grazie Antonio, grazie. Quindi tu hai saputo rispondere a delle domande relative sia a dei test, sia a dei colloqui. Quanti colloqui hai fatto, Antonio? Abbiamo fatto... Durante la fase di selezione, diciamo. No, solo con il periodo selettore. Ok. Che è venuta praticamente è stata una, davvero una passeggiata, è stato un normalissimo colloquio, una chiacchierata, ecco. Mamma mia, no. Infatti uscito da lì non ci credevo neanche io, insomma. Ma tu avevi già provato altre volte questo tipo di concorso, Antonio? Sì, l'ho provato già altre volte. E come, cos'è che ti era, diciamo, era andato un po' malino, diciamo. Allora, questo concorso l'ho provato prima di questo altre due volte. Una volta non ho superato i test, l'altra volta invece le commissioni. Quindi hai avuto un'inidoneità, diciamo. Sì, inidoneità. Ok, quindi hai deciso di prepararti. Sì. Va bene, no. Faccio presente questo, Antonio, perché molto spesso i ragazzi, no, come te, giustamente, mi chiamano per prepararsi nel momento in cui magari poi hanno delle inidoneità. E se ci fai caso e fai anche dei calcoli, Antonio, effettivamente, si è perso un anno di lavoro, tra virgolette, in questa organizzazione perché, appunto, non si è superato al primo colpo, diciamo, no, questa selezione che ad esempio tu, questo concorso che ad esempio tu hai fatto. Ed è un peccato perché effettivamente sarebbe ospicabile in realtà prepararsi anche, diciamo, psicologicamente, psicoattitudinalmente, anche la prima volta che si svolgono questi concorsi, prima di ricevere l'inidoneità, tra virgolette. Sì, esatto, senza perdere tempo, essere proprio diretto, iniziare questo percorso, superare tutti i vari difficoltà. L'importante è farcela, per carità, però, esattamente, se si fanno dei calcoli... Sì, però se uno può ridurre i tempi è meglio. Va bene, va bene, Antonio. Che dire, io ti ringrazio per il tempo che mi stai dedicando, Antonio, per questa testimonianza. Una domanda, tu lavori o collabori per me? No, no, assolutamente no. Ok, posso pubblicare, Antonio, questo video testimone alle miei canali social? Sì, ragazzi, capisco l'importanza del corso. Va bene, va bene, Antonio, grazie mille. Allora, ti auguro un po' al lupo e buona giornata. Buona giornata anche a lei, dottore.